A tre mesi dal sisma che ha distrutto Amatrice, le donne del vino a Bruzzo organizzano un evento benefico, una raccolta fondi per sostenere il consorzio all'amatriciano, il pecorino dei Monti della Laga. Jenny Gomez, delegata appunto delle donne del vino, come è nata questa iniziativa e di cosa si tratta? Questa iniziativa nasce su base nazionale. Fondamentalmente la nostra presidente Donatella Cenelli-Colombini, alla luce degli accadimenti nefasti del sisma che ha distrutto Amatrice e le zone limitrofi, ha chiamato tutte le delegate regionali e ha deciso appunto di spronarci per fare una raccolta fondi da devolvere al consorzio l'amatriciano. Noi non potevamo esimerci e il 23 novembre alle 20.30 presso l'Osteria della Musica andrà in scena questo bellissimo racconto di solidarietà. Sarà possibile assistere a questo evento solidale grazie al contributo di tanti imprenditori che si sono messi a disposizione letteralmente delle donne del vino con i propri prodotti. Parliamo di Iubatti, Passificio De Luca, Gelateria 900, La Mimosa. Tutti questi prodotti saranno in abbinamento ai vini delle donne del vino. Noi donne del vino siamo sempre state attenti a queste iniziative. Credo che si possa parlare di Abruzzo anche in chiave positiva, grazie anche a questi piccolissimi contributi. Potete andare sulla nostra pagina innanzitutto per vedere tutte le informazioni. Quindi le donne del vino Abruzzo, pagina Facebook. Poi potete prenotarvi mandando una mail a le donne del vino Abruzzo, chiocciolagmail.com Grazie.